I sing the song for the hustler Sir Elton John lo aveva promesso e non ha mancato l'appuntamento. Il suo invito è stato raccorto dalle star della musica americana e il concerto benefico in videoconferenza dalle proprie abitazioni ha avuto luogo ieri. Una versione a stelle e strisce dell'iniziativa italiana Io suono da casa. We hope this bit of entertainment can feed and fuel your soul. Speriamo che questo intrattenimento alimenti e sostenga le vostre anime. Così ha esordito John lasciando spazio ad oltre un'ora agli esibizioni trasmesse da Fox non solo sul web ma anche in tv e alla radio senza spot pubblicitari. Il mio cuore è per coloro che hanno perso i propri cari e che perderanno il lavoro, ha detto Lady Gaga. Le performance di Alicia Keys, Demi Lovato, Shawn Mendes, Mariah Carey e molti altri hanno fatto da cornici alle testimonianze di chi lavora in prima linea per combattere il virus dai medici agli autotrasportatori. Non è mancata neppure la canzone più venduta al mondo nel 2019. Billie Eilish l'ha eseguita accompagnata alla chitarra da suo fratello. Quando usciremo da quest'incubo, ha detto Elton John spero che saremo più buoni gli uni con gli altri e più leali.